Il corso ha detto che il corso ha detto la sentenza di assiniamare il caso Babel, che è l'epposta riuscita e i due sospettatori di Gerard Schott e il filiere Van Der Deys sono culpabili, tra l'altro, lavamento di placi e falsificazione, secondo la domanda del Ministero Público. Il corso ha detto che il corso di Gerard Schott ha detto che il corso di prisione e Gerard Schott ha dato un castigo di prisione di tre anni, quitando i diritti di arresto preventivo. Il politico Schott perde il suo passaporto diplomatico e il diritto per l'elezione politica per 5 anni. Il politico è il leader del partito più grande di oposizione, il MFK, ha detto che la prima reazione ha mostrato il suo decepito e assicurato quello che usa il suo diritto di appellazione. Il corso ha detto che il corso di CBA, la televisione del corso. Il corso di noi, il corso di un'esplice, è molto semplice, che ha detto che il corso di un'esplice che è un'esplice che è un'esplice che è un'esplice. E' un'esplice che è praticamente copia conforme al pubblico del ministerio. E' un'esplice che è 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 un'esplice. Non è un'esplice che è un'esplice che è un'esplice, Grazie a tutti per la elezione prossima.